Presente, Cortezza Alconto, Proto Antonio, Manzi Paolo, Bottone Viviano, Di Rocco Luigi, Presente, Puglio Morni, Cioffi, Parascandolo. Allora, richieda aperto il Consiglio. Primo punto dell'ordine del giorno, la proporzione verbale è la seduta del 36-21. Ratifica del liberi giunta comunale, laura adeguamente messa in sicurezza patrimonio comunale e strade comunali. Acquisizione sanalexarticolo per la variazione di bilancio. Poi approvazione del rendicoto della gestione degli esercizi del libero, approvazione del regolamento di disciplina della tassa di fiume, tari, del servizio di gestione dei frutti urbani, l'approvazione del piano economico finanziario, l'approvazione delle tariffe tari e l'affidamento in finanza di progetto per quanto riguarda la bretella e i parcheggi. Va bene? Ci sono interventi? No. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Bilancio di previsione 2021-2023. Verifica salvaguardi degli equilibri di bilancio. Allora, il 118 stabilisce che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno bisogna provvedere alla verifica degli equilibri di bilancio. Per adottare contestualmente dove ci sia la necessità, non è necessario ripristinare il pareggio qualora la gestione faccia prevedere un disavanzo, qualora ci siano debiti fuori bilancio da riconoscere e è necessario fare una verifica del fondo credito di esigibilità accantonato. Dopo che abbiamo provveduto all'approvazione del bilancio di previsione con delibera consigliare, successivamente sono state adottate una serie di variazioni di bilancio. Da ultimo, nell'ambito della predisposizione della delibera di consiglio comunale numero 30 del 16-7-2021, è stata già fatta un'operazione di ricerca di eventuali squilibri, sia perché occorreva riconoscere due debiti fuori bilancio richiesti presentati dai colleghi di alcuni settori, sia perché occorreva iniziare la stagione estiva e quindi bisognava attuare una serie di nuove proposte ed obiettivi che l'amministrazione aveva dato come indirizzo, per cui è stata fatta anche una verifica complessiva della spesa, dei capitoli di spesa. È stato inoltre per alcuni obiettivi legati, soprattutto a spese in conto capitale, provveduto con l'applicazione dell'avanzo di bilancio libero o vincolato, per cui l'operazione di verifica degli equipi è stata già esaminata in questa prima fase. Un'ulteriore verifica effettuata ha determinato che sia le previsioni delle entrate tributarie che le previsioni dei trasferimenti correnti sono coerenti con gli accertamenti a tutt'oggi verificate e che quelli che presumibilmente saranno accertate al 31 12 2021. La previsione di entrata per l'entrata extra tributaria, il posto di soggiorno e quant'altro sono anche esse presumibilmente in regola, anche se essendo legati indicevolubilmente al settore del turismo potrebbero essere interessati dagli effetti della pandemia ancora in essere. Per cui è necessario continuare fino al 31 12 a fare delle verifiche rispetto agli equilibri e nel caso in cui la situazione potrebbe far scaturire una questione di disquilibrio avremo sicuramente sia l'avanzo libero che l'avanzo vincolato a tutela e inviato dai trasferimenti erariali per la sistemazione. Il fondo di cassa, la situazione di cassa ha un saldo positivo, non si sono stati individuati residui insussistenti e il fondo credito di esigibilità risulta in regola rispetto ai principi contabili. Quindi non c'è stato in questa fase nessuna esigenza di predisporre ulteriori variazioni o sistemazione di scriviti. grazie. Ringraziamo la ragione di dire, ci sono interventi. votiamo chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si è stile, chi è contrario. bene, argomento numero 3, ratifica delibera numero 73, servizio di trasporto pubblico urbano, integrazioni, corsi, variazioni al bilancio di previsione, eccetera. Allora questa è una ratifica della delibera dei giunti. In questa delibera dei giunti in realtà noi abbiamo, per mantenere il distanziamento, come abbiamo fatto l'anno scorso, per 2-3 mesi abbiamo aggiunto al nostro pulmino, un altro pulmino, per 5.000 euro più IVA, praticamente fino a quando i bambini non andranno a scuola. Quando i bambini andranno a scuola ritorneremo agli orari praticamente vecchi con un solo pulmino. Questo è, per dire, ci sono interventi? No. Anche questi fondi vengono presi da quelli vingolati praticamente per il Covid. Bene, allora passiamo alla votazione. di chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene, chi è contrario. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene, chi è contrario. Dichiaro il consiglio chiuso e ringrazio la segretaria.